3 novembre 1949 muore Solomon Robert Guggenheim. Nato a Filadelfia il 2 febbraio 1861, costruisce un impero sulle miniere di rame. Nel 1919 Guggenheim decide di andare in pensione per dedicarsi completamente alla collezione di opere d'arte e nel 1939 Guggenheim fonda la Solomon Guggenheim Foundation con lo scopo di preservare e sostenere l'arte moderna.